allora riprendiamo la lezione con la parte legata alla traccia di amministrativo per poi passare alle alle altre buonasera a tutti abbiamo comunicazione che questa è la parte legata alla risoluzione delle tracce del concorso che si è tenuto in questi giorni quindi faremo un'analisi attenta di tutte quelle che sono le tracce che sono state oggetto del concorso partiamo con la parte del diritto amministrativo con il nostro docente professore l'avvocato Manfrellotti che ci spiegherà proprio come andava impostata questa traccia e perché no dire anche che forse questo argomento leviamo il forse è stato proprio oggetto del concorso in magistratura e anche nel nostro corso allora io ringrazio l'amico Alessio e tutti i presenti e confermo che si tratta di una traccia che noi avevamo in qualche modo analizzato al corso commentando la traccia proprio con Alessio poco fa noi sottolineavamo come in realtà più che una traccia di diritto amministrativo stretto si trattava di una traccia di diritto pubblico posto che faceva riferimento a una serie di istituti che avevano a che fare con il diritto amministrativo ma prima ancora con le categorie generali del diritto pubblico in particolare quella parte fondamentale del diritto pubblico dedicata alle fonti del diritto. Leggiamo la traccia che è uscita diciamo per il concorso in magistratura di quest'anno. Regolamenti amministrativi e sindacato del giudice ordinario e amministrativo. E' chiaro che come ci accorgiamo e come normalmente accade nelle tracce del concorso in magistratura degli ultimi anni la traccia è idealmente divisibile in due parti ed entrambe le parti andavano affrontate nel tema nell'elaborato. La prima parte riguardava l'impostazione domatica del concetto di regolamento amministrativo e su questo mi permetto di andare velocemente perché chi ha seguito le lezioni diciamo di chi vi parla ormai i regolamenti amministrativi se li sognano il cuore della notte diciamo allora come andava mi limito a dare lo schema del della traccia poi magari recupererete le nozioni diciamo dalla lezione che c'è stata su questo argomento specifico come andava impostata esattamente come noi avevamo impostato la lezione dell'epoca vale a dire innanzitutto era importante definire il regolamento del governo cos'è un regolamento del governo quindi è una fonte normativa adottata da una pubblica amministrazione al fine di auto vincolarsi ad un determinato comportamento. Dopodiché c'era il problema del fondamento costituzionale dei regolamenti del governo e qui ricordate che all'interno delle discussioni sul fondamento costituzionale dei regolamenti del governo noi abbiamo accolto la teoria che ancora il fondamento costituzionale dei regolamenti governativi all'articolo 97 della costituzione attuale secondo comma nella parte in cui fa riferimento al principio di imparzialità perché imparzialità perché attraverso il regolamento l'amministrazione si vincola a trattare in modo uguale casi concreti simili. Ricordate forse che quando analizzammo l'argomento a lezione dicemmo che il principio di imparzialità riferito ai regolamenti del governo generali e estrati costruisce una declinazione dei principi di uguaglianza. Dopodiché occorreva porsi il problema della disciplina positiva dei regolamenti del governo e in particolare la disciplina posta dall'articolo 17 della legge 400 dell'88. Quindi operare una distinzione, ripeto io vado a grandi linee perché sono concetti noti a chi ha seguito la lezione, quindi operare una distinzione tra regolamenti ministeriali e regolamenti governativi in senso stretto, di lì avviare l'esame dei regolamenti governativi in senso stretto attraverso la quadripartizione operata dall'attivo 17 della legge 400 che come voi sapete si articola in regolamenti di esecuzione, di attuazione e integrazione indipendenti e delegati. Occorreva fare riferimento al problema dei regolamenti indipendenti, occorreva fare riferimento alla problematica dei regolamenti delegati, cioè della delegificazione. L'occasione dei regolamenti indipendenti l'occasione dell'esame dei regolamenti indipendenti avrebbe dovuto aprire nella redazione del tema al discorso in ordine al necessario fondamento legislativo dei regolamenti. Fondamento legislativo che ancora una volta noi traiamo dall'articolo 97 della Costituzione, nella parte in cui pone una riserva di legge rinforzata nell'organizzazione dei pubblici uffici e quindi nell'organizzazione di quelle funzioni pubbliche, prima tra tutto la funzione regolamentare, che si lega all'organizzazione dei pubblici uffici. Occorreva infine operare un cenno, ma niente più che un cenno, ai regolamenti delle altre strutture amministrative diverse dal governo, quindi le autorità amministrative indipendenti e quelle autorità amministrative che in qualche modo si occupano dell'attuazione di obblighi europei. Ma si trattava di profili su cui andava operato soltanto un cenno perché la traccia chiedeva altro. Qui si esauriva la prima parte del termine. La seconda parte riguardava i profili processuali dell'impugnazione dei regolamenti. e ovviamente occorreva prima di tutto forse il problema della impugnazione di un regolamento del governo. Qui devo fare riferimento a cose dette non al corso di quest'anno, ma al corso dell'anno scorso, perché diciamo il problema della giustizia amministrativa non l'abbiamo ancora affrontato nel corso di quest'anno. Bisognava innanzitutto partire con quella giurisprudenza assolutamente pacifica per la quale il regolamento in quanto tale non è un atto immediatamente esito. Va impugnato necessariamente in connessione con l'atto amministrativo che lo applica. Quindi occorreva sottolineare il collegamento causale tra il regolamento generale astratto e l'atto amministrativo individuale e concreto che nel singolo caso andava ad applicare il regolamento. E solo attraverso quella specificazione amministrativa il regolamento da generale diventa un atto immediatamente esito. Questo è il motivo per il quale una giurisprudenza assolutamente pacifica del Consiglio di Stato prevede che l'impugnazione del regolamento può avvenire esclusivamente attraverso diciamo in connessione all'atto amministrativo che lo applica. Vi è poi il problema del sindacato del giudice ordinario il quale si articola in due fatti specie. Il sindacato del giudice ordinario all'interno della funzione giurisdizionale che normalmente il giudice ordinario esercita sugli atti della pubblica amministrazione. E si tratta di diciamo così concetti che rientrano nelle condizioni di chiunque sia uscito da un consiglio di laurea in giurisprudenza. Voi tutti ricordate che c'è una cosa, una legge recentissima che è la legge numero 2248 del 1865. l'allegato è la quale prevede che il giudice ordinario applica gli atti della pubblica amministrazione solo se conformi a legge. Il che significa che il giudice ordinario applica gli atti amministrativi ricompressi gli atti amministrativi generali e astrati solo se tali atti sono legittimi. il che significa che nell'ambito della propria funzione giurisdizionale il giudice ordinario applica i regolamenti del governo solo se legittimi. c'è una domanda? c'è una domanda? no 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 sarebbe stato interessante ma non è una cosa che potete fare interno. è una domanda che io vi consegno poi se qualcuno di voi particolarmente folle e temerario ha intenzione di approfondire questo tipo di studio sappiate che vanno ben oltre quello che vi è richiesto per il tema del concorso di magistratura. sarebbe interessante però capire che tipo di sindacato può operare il giudice ordinario nell'andare a valutare la legittimità dei regolamenti e andare a vedere se nell'esercizio della sua facoltà obbligo di disapplicazione del regolamento il giudice può andare a sindacare il regolamento non solo sotto il profilo della violazione di legge ma anche sotto quello dell'eccesso quindi andare a sindacare la discrezionalità dell'autorità amministrativa che ha adottato il regolamento. più interessante però ai fini del concorso è l'altro tipo di sindacato che può operare il giudice ordinario all'interno di quelle materie coperte dalla cosiddetta giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ora voi sapete che la costituzione prevede la costituzione e il codice del processo amministrativo prevedono alcune materie sulle quali il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva sui diritti e sugli interessi legittimi e normalmente quando parliamo di giurisdizione esclusiva noi parliamo di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ora voi dovete sapere che da qualche anno si parla anche di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario nel testo che vi è stato consigliato per la preparazione generale di diritto pubblico per l'esame per il concorso in magistratura se qualcuno di voi ha già iniziato il studio di questo testo ricorda che c'è un riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario che cos'è la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario? è un ambito nel quale il sindacato sui diritti e sugli interessi legittimi è operato non dal giudice amministrativo ma dal giudice ordinario per esempio in materia di pubblico impiego per esempio in materia di sanzioni amministrative ora il problema è che quando il giudice ordinario nell'esercizio di una materia attratta nella sua giurisdizione esclusiva deve conoscere della legittimità di un regolamento o di un atto amministrativo generale si trova nella necessità di operare un sindacato che per espressa previsione dirige è un sindacato esclusivo cioè o io quel regolamento quell'atto amministrativo lo impugno davanti al giudice ordinario o non lo impugno perché il legislatore mi dice che in quella materia c'è una giurisdizione esclusiva del giudice ordinario state seguendo il che significa che se il legislatore chiedo scusa che se il giudice ordinario conservasse nelle materie di giudizione esclusiva i poteri che ha alla luce della legge 2248 del 1865 noi ci troveremmo nella giuridica impossibilità di annullare un atto amministrativo o un regolamento illegittimo perché su quelle materie ha giudizione esclusiva soltanto il giudice ordinario e voi vi rendete conto che mentre per quanto riguarda l'atto amministrativo l'istituto della disapplicazione può esaurire la tutela del ricorrente per quanto riguarda il regolamento magari sì ma se io non annullo il regolamento lascio nel sistema una norma che per ipotesi è illegittima sicché sarebbe utile per rogarsi e la dottrina lo ha fatto se nelle materie di giudizione esclusiva del giudice ordinario il sindacato del giudice ordinario non si estenda anche all'annullamento del regolamento oltre che alla sua semplice disapplicazione ovviamente trattandosi di una problematica che ad oggi ha una dimensione esclusivamente dottrinaria quindi non ha ancora avuto un'applicazione giurisprudenziale sarebbe stato opportuno porre la questione in termini problematici allora questo è lo schema che andava seguito per sviscerare la traccia del concorso ci sono domande? anche lei avrebbe alla fine diciamo c'è un discorso sulla disapplicazione ma io ho pensato anche io personalmente quando ho detto la traccia ma non ha avuto il problema della disapplicazione del giudice amministrativo allora la disapplicazione del regolamento da parte del giudice amministrativo era un tema che si portava alla fine degli anni 90 però ormai diciamo si tratta per fortuna di un diciamo di una discussione superata sicuramente valeva la pena di operare un riferimento al problema della disapplicazione del regolamento da parte del giudice amministrativo però ecco dobbiamo tenere presente che si tratta di una discussione che oggi ha un valore pratico modesto esattamente ok perché in effetti parlando con altre interfacciandole con persone che hanno raffinato il tema loro non hanno parlato per esempio della disapplicazione cioè mi domando se questa traccia potesse essere affrontata in modo diverso allora della disapplicazione del giudice ordinario che giudice amministrativo hanno sbagliato il tema semplicemente hanno sbagliato il tema cioè è come è come è come andare in chiesa e non parlare di Dio sì infatti ve lo domando perché anche leggendo questa traccia la prima cosa mi è venuto in mente allora mi ripete il suo nome Asia l'osservazione di Asia ci dà l'occasione per ribadire una cosa che i ragazzi del corso si sono tatuati nel cervello diciamo allora voi non potete pensare di affrontare lo studio del diritto amministrativo per come era richiesto per il concorso di magistratura senza un eccellente conoscenza del diritto pubblico perché il diritto amministrativo è una costola del diritto pubblico se voi partite con lo studio solo del diritto amministrativo costruite un edificio senza scavarne le fondamenta allora i colleghi con cui lei si è interfacciata sicuramente conosceranno l'ultima sentenza sulla marca di biancheria intima che devono utilizzare i consiglieri di stato piuttosto che i dirigenti piuttosto quello che vuole lei ma difettando di categorie generali non gli è passato per l'anticamera del cervello di andare a affrontare un aspetto che costituiva il cuore del sindacato di luci ordinari sui regolamenti valentina di disapplicazione questo aspetto era chiaro solo a chi prima di mettersi a studiare il diritto amministrativo possedeva le categorie di diritto pubblico che governano tutti i settori dell'ordinamento pubblicistico e di compreso ovviamente il diritto amministrativo perché il problema della disapplicazione è un problema che riguarda l'efficacia degli atti e la distinzione tra vigenza ed efficacia è una distinzione che ovviamente riposa su categorie generali del diritto pubblico altre domande? allora io vi ringrazio per la vostra attenzione e cedo la parola al mio successore si guarda 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 lei ha fatto questa domanda sulla disapplicazione perché sia relazionata con i tuoi colleghi o perché ha fatto degli studi eccoci qua però partiamo con la risoluzione di penale di civile vero? si esatto hai fatto lo tuo ok no mi interessava diciamo perché ha fatto un'osservazione molto intelligente ma non volevo sapere diciamo no no chiudiamo la porta sì adesso scurare allora 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 mi ritieni un po' con la disposizione sì bene così ok allora veniamo non ti preoccupare veniamo alla risoluzione piano piano veniamo alla data ok veniamo alla risoluzione chiudiamo la finestra se non si sente niente buon pomeriggio a tutti delle tracce di diritto penale e di diritto civile che sono state svolte al concorso in magistratura ci tenevo però prima di tutto a fare una piccola precisazione lo sommo a flotti doveva andare via e quindi lo abbiamo gli abbiamo permesso di parlare per primo abbiamo permesso abbiamo concordato che parlasse per primo però volevo fare una piccola premessa sulle tracce e in particolare una riflessione anche sul livello di difficoltà delle tracce perché vedete da un lato si tende a dire le tracce non erano troppo difficili le tracce non erano troppo difficili salvo forse civile che era l'unica che le parti che i concorrenti hanno ritenuto essere molto difficili e le altre sono gestibili io faccio due ordini di riflessione che voglio condividere con voi e che voglio che voi facciate proprio la prima se la traccia non è particolarmente difficile o non sembra particolarmente difficile si alza il livello dei temi contro cui ve la giocate quindi non è che sperare in una traccia semplice sia di per sé la panacea di tutti i mali perché la traccia semplice la fanno in più e la fanno meglio sulla traccia difficile basta riuscire a raccogliere un elaborato sufficiente per essere già al di sopra del percentile al di sopra della media seconda valutazione che faccio dato che la traccia semplice è una traccia su cui tutti scrivono diventa necessario andare un po' oltre quello che è il livello medio quindi cercare di sviscerare di dare qualcosa in più questo per dirvi che non è che la traccia semplice è la panacea di tutti i mali perché il concorso in magistratura non è una prova contro voi stessi ma è una prova contro gli altri e allora voi lo sapete che ogni giorno di correzione ne passa uno ne passa zero qualche volta ne passano due resta il fatto che voi ve la giocate con le persone che vengono corrette in quel giorno ora non è che il vostro compito deve essere per forza il migliore di quel terreno ma il primo e il secondo quindi vuol dire che se la traccia è semplice ovviamente si richiede da parte vostra un intervento e uno sviluppo con una profondità maggiore seconda riflessione preliminare che a mio modo di vedere è molto importante a contrario di quanto accada per le tracce del esame di avvocato o per le domande aperte in alcuni concorsi pubblici dovete tener conto che le tracce di magistratura sono comunque delle tracce tendenzialmente aperte cioè i commissari vogliono che voi vi apriate un sentiero giuridico di riflessioni dato un certo argomento quindi vi danno una chiave di lettura di un problema ma non è che vogliono per forza da voi una certa risposta vogliono da voi un'argomentazione una riflessione un percorso giuridico quindi voi capite sono passaggi sono momenti un po' diversi tutto ciò detto io pubblicherei prima la traccia di penale che è quella che tratterò io è stata la prima estratta anche l'ordine no? molto peculiare quest'anno prima penale poi amministrativo poi civile di sotto il civile penale amministrativo ne do lettura mentre viene pubblicata sia su facebook che su instagram diritto di critica diritto di cronaca e diritto alla riservatezza il candidato esamini il rapporto tra libertà di pensiero e reato di diffamazione anche con riferimento all'utilizzo dei social network ripeto diritto di critica diritto di cronaca e diritto alla riservatezza il candidato esamini il rapporto tra libertà di pensiero e reato di diffamazione anche con riferimento all'utilizzo dei social network una traccia che era stata bene si vede su entrambi i social una traccia che era stata oggetto delle nostre riflessioni e delle nostre attenzioni proprio all'ultima lezione di diritto penale del corso quella che si è tenuta il 20 gennaio del 2024 dove abbiamo trattato le scriminanti sia quelle tipiche che quelle atipiche e quindi molto abbiamo discusso del diritto di critica molto abbiamo discusso del diritto di cronaca molto abbiamo discusso di diffamazione e di tutto il problema dei social network peraltro sulla diffamazione realizzata a mezzo social abbiamo anche tenuto diversi approfondimenti in particolare durante aggiornamenti giurisprudenziali abbiamo parlato di diffamazione a mezzo blog di diffamazione a mezzo social almeno nell'ultimo anno penso che l'argomento sia stato trattato in tre diversi incontri perché le cassazioni sulla diffamazione a mezzo social sono molto molto diffusi ora qual era il senso della traccia perché vedete uno dei motivi per cui bisogna non consegnare quando bisogna decidere di non consegnare è quando non si è riuscito davvero a comprendere qual è il senso della traccia cioè quando non si è riuscito a comprendere perché i commistari vi hanno voluto assegnare una traccia del genere il senso della traccia era quello di analizzare di comprendere i rapporti che esistono tra la libertà di pensiero che è un diritto costituzionalmente riconosciuto e la diffamazione che è un reato e che come vedremo opera come limite tutta posto opera come limite alla libertà di pensiero e quindi l'obiettivo della traccia era di comprendere come libertà di pensiero e diffamazione dovessero trovare un punto di equilibrio alla luce di cosa del fatto che il reato di diffamazione è un reato che evidentemente mira a tutelare che cosa la reputazione ed eventualmente la riservatezza di un soggetto e quindi la necessità di mettere in equilibrio questi diritti contrapposti da un lato libera manifestazione del proprio pensiero dall'altra diritto di riservatezza e diritto a conservare intatta la propria buona reputazione e quindi il compito era un compito che passava tutto dall'analisi dell'equilibrio tra queste due forze contrapposte non c'è batteria qua puoi attivare l'ho detto che non era andata in carica si è staccato quindi dalla necessità non sta caricando? sta caricando? no sta al 10% perché non carica? può carire la presa sì dalla necessità sì penso di sì dalla necessità di trovare il giusto punto di equilibrio il giusto contemperamento tra principi costituzionali contrapposti ciò nonostante però attenzione quando preparate il concorso in magistratura sia il 58 può metterlo direttamente qua dovete ricordare il celeberrimo brocardo inglese attacca il ciuccio dove vuole il padrone ora se il padrone nella traccia parte da critica cronaca e riservatezza voi commettete un errore se partite se aprite il vostro compito con la libertà di pensiero perché cronologicamente la libertà di pensiero viene inserita successivamente nella traccia qui non c'è dubbio che voi dovevate partire dal diritto di critica dal diritto di cronaca e dal diritto alla riservatezza e tramite essi dovevate poi arrivare alla libertà di pensiero spiegando cosa che critica e cronaca sono due delle modalità in cui è possibile esercitare la libera manifestazione del proprio pensiero quindi un diritto di rango costituzionale come si proporzionava questo compito quanto dovevate dedicare a ciascuna parte diciamo che benché il compito sembra essere diviso in tre parti perché abbiamo critica cronaca e riservatezza che sembra la prima parte libertà di pensiero e diffamazione è la seconda parte terza parte il caso specifico dei social network in realtà potete considerare un compito diviso in due parti la prima parte è tutta quella che arriva fino alla diffamazione quindi pensiero libertà di pensiero diffamazione critica cronaca e riservatezza l'ultima parte è quella che riguarda i social ora vi dico voi non dovete commettere un errore piuttosto grave quando una traccia vi chiede di esplicitare una questione generale e poi applicarla in concreto il rischio sapete qual è? di fare un grande compito sulla prima parte è di dire due chiacchiere sulla questione social network è profondamente sbagliato questo approccio perché se ve l'ha inserito in traccia voi non potete liquidare la questione in mezza paginetta vuol dire che è importante riflettere sul problema dei social network rispetto a libertà di manifestazione del proprio pensiero e diffamazione che significa ciò che almeno un terzo del compito dovrà essere chiaramente senza ragionare con righello un terzo ideale del compito andrà dedicato evidentemente al problema della diffamazione a mezzo social network o la libertà di espressione del proprio pensiero a mezzo social network e i suoi limiti i suoi limiti sono proprio la diffamazione adesso cerchiamo di immaginare un'ipotetica scaletta di risoluzione di questa traccia vedete questa era una traccia che di per sé poteva anche essere considerata non particolarmente difficile perché chiunque studia il concorso in magistratura con una certa attitudine chi studia bene chi segue un corso ha sentito parlare della libertà di manifestazione del proprio pensiero conosce il reato di diffamazione e sa come la diffamazione si declina rispetto a critica e cronaca quali sono un po' i due elementi di perplessità di questa traccia i due elementi di difficoltà il primo è questo riferimento alla riservatezza che sembra un pochino dissonante rispetto alla prima parte perché quando noi pensiamo a critica e cronaca dall'altra parte ci viene da pensare alla reputazione perché il diritto di critica rischia di distruggere l'altrui reputazione è raro che ci venga prospettato in confronto al diritto alla riservatezza dall'altro lato abbiamo il problema del riferimento ai social network perché c'è da capire quale fosse la questione anche giurisprudenziale su quale la traccia richiede di riflettere questi due passaggi diciamo difficili per il resto la difficoltà era costruire un compito che tenesse insieme libertà di pensiero critica cronaca e diffamazione e riservatezza tutto assieme in un unico elaborato cosa tutt'altro che semplice quindi una traccia che può sembrare semplice quello dice io conosco il rito di critica e di cronaca conosco la diffamazione da scrivere grazie mille da scrivere in realtà è piuttosto complesso come andava sviluppata la scaletta un'ipotetica scaletta non è che c'è solo una risposta come vi dicevo bisognava partire sicuramente dal diritto di critica e dal diritto di cronaca quindi non era il caso di partire dalla libertà di stampa tanto per capirci è il caso di attenerci al programma e partire da critica e cronaca spiegando che cosa sono spiegando quali sono le differenze tra le due tipologie espressive senza ancora parlare dei limiti i limiti alla critica i limiti alla cronaca questi vengono dopo prima si presentano critica e cronaca evidenziando le differenze tra l'uno e l'altro dopo aver spiegato cosa sono critica e cronaca ci si poteva ricollegare alla libertà di pensiero spiegando che critica e cronaca rappresentano le più classiche forme contemporanee di libertà di espressione del proprio pensiero perché oggi la libertà di espressione del proprio pensiero si svolge o attraverso la cronaca quindi il racconto di ciò che accade il racconto di ciò che si è verificato o attraverso la critica quindi un'analisi critica dei fatti che si sono verificati cosa che si può verificare sia attraverso il classico strumento che è la stampa sia attraverso strumenti più moderni quali la televisione la radio o ancora di più già avrei buttato la zeppata i social network punto non è il momento di parlare di social network però far presente che sappiamo che esistono spiegare e chiarire l'enorme importanza che ha la libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento e quindi esaltare le norme costituzionali che lo tutelano che la tutelano effettivamente dopo aver esaltato questo principio dopo aver chiarito la centralità dello stesso e la sua connaturata necessarietà in qualunque ordinamento democratico perché dove non c'è libertà di pensiero non ci può essere democrazia e viceversa avere chiarito però che ciò nonostante quindi nonostante il suo rango di diritto costituzionale come tutti i diritti di rango costituzionali esso deve trovare il suo contemperamento in altri eventuali diritti costituzionali contrapposti ciò accade in quanto lo potevate dire tranquillamente la costituzione è un'enunciazione di principi generali e aperti immaginati nella loro massima ampiezza ma è evidente che quando poi i due principi costituzionali finiscono per cozzarsi perché la massima attuazione del primo comporterebbe il sacrificio del secondo o viceversa sorge necessaria la necessità di bilanciarli cioè di capire in che modo dare attuazione ad entrambi bilanciare vuol dire che non puoi dare la piena attuazione all'uno perché vorrebbe dire distruggere l'altro allora vuol dire bilanciarli vuol dire attuarli entrambi ma non nel massimo della loro portata e qua per esempio avere aperto una parentesi un rigo però facendo un riferimento per far capire che siete sul pezzo come ad esempio accade nel contratto di mutuo nel rapporto tra autonomia negoziale e usura perché quella è una classica ipotesi di bilanciamento dei contrapposti interessi da un lato l'autonomia negoziale vorrebbe che se io voglio prestare dei soldi a Anna ha al 40% di interesse all'anno e lei è d'accordo a prendere in prestito dei soldi da me al 40% all'anno lei dovrebbe poterlo fare perché autonomia negoziale le parti sono d'accordo hanno scelto il 40% bene quello è il tasso di interesse autonomia negoziale principio costituzionale dall'altro c'è un principio costituzionale contrapposto che è l'esigenza di tutelare il risparmio delle famiglie e di non approfittarsi di soggetti in difficoltà e allora reato di usura quindi il reato di usura rappresenta una classica ipotesi di contemperamento tra principi contrapposti così come l'esistenza dei contratti collettivi nazionali del lavoro come ti chiami? tu se Asia vuole lavorare alle mie dipendenze 16 ore al giorno a 100 euro al mese lei è ben contenta di farlo io ovviamente sono ben contento di assumerla a 100 euro al giorno a 100 euro al giorno e a 100 euro al mese per 16 ore al giorno andrebbe bene a 100 euro al giorno perché non dovremmo poter concludere quel contratto? autonomia negoziale perché l'autonomia negoziale è uno dei principi costituzionali c'è un altro che si chiama tutela e degnità del lavoro adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto tra i due deve soccombere in questo caso nell'ottica di bilanciamento l'autonomia negoziale e avrei spiegato perché ciò è vero perché ciò è vero solo se l'esaltazione massima di un principio costituzionale finisce per limitarne un altro in questo caso le cose starebbero così perché nel momento in cui noi finiamo per esaltare al massimo la libertà di pensiero e di manifestazione del pensiero ovviamente e finiamo per attribuire un diritto illimitato ad ogni persona e di esprimere qualunque sia la sua idea senza limiti rischieremmo rischieremmo travolgere altri diritti costituzionali tra cui la riservatezza la mettevate in mezzo cominciamo a tirarla fuori e la reputazione cosa che si verifica qua avresti dovuto dire soprattutto quando il diritto alla propria libertà di pensiero è esercitato attraverso gli strumenti della critica e della cronaca e riprendevate critica e cronaca di come avete parlato all'inizio il compito è circolare si richiamano gli argomenti e poi in particolare quando la stessa si svolge attraverso l'utilizzo di strumenti di grande diffusione come la stampa come la radio la televisione e i social network ancora richiamavamo quello di cui parleremo adesso bisognava entrare nel momento bisognava identificare questi limiti bisognava capire che il limite classico esterno del diritto alla manifestazione del proprio pensiero è composto dalla triade verità o veridicità pertinenza e continenza cioè bisognava spiegare che normalmente la manifestazione esterna del proprio pensiero è sempre ammissibile purché venga fatta in modo veridico o veritiero in modo pertinente e in modo continente a questo punto spiega che vuol dire veridicità continenza e pertinenza e come ricordate verità o veridicità vuol dire che io devo trasmettere delle notizie devo diffondere delle notizie che siano vere o quantomeno veritiere possono anche non essere esattamente vere possono anche essere frutto di una ricostruzione dove un soggetto unisce puntini tra fatti veri però o quantomeno puntativamente vere cioè io devo ritenere che la cosa sia vera dopo aver provato a verificare la veridicità della stessa continenza che è un po' quello che pensavo una persona incontinente che vuol dire non si sa non si riesce a trattenere è la stessa cosa continenza vuol dire che puoi esprimere liberamente il tuo pensiero ma per farlo non puoi utilizzare qualunque terminologia qualunque espressione qualunque definizione ma solo quella terminologia che è adeguata a descrivere effettivamente quello che si è verificato è chiaro che se io sto trascrivendo una intercettazione o se sto raccontando qualcosa che si è verificato oggettivamente posso anche trascrivere figlio di bip senza dire bip però perché sono frasi che sono state effettivamente dette ed è chiaro che se io sto criticando un politico posso definirlo un politico incapace un buono a nulla quello che non posso dire è che è un figlio di bip perché è un'offesa che non ha niente a che vedere con la critica che io muovo continenza del linguaggio vuol dire che io posso utilizzare un linguaggio anche eventualmente offensivo a patto che però quel grado di offensività sia intimamente correlato alla manifestazione del mio pensiero posso dire che un politico è un incapace è un inetto se quella mia critica se quella parola è funzionale alla critica politica che sto facendo dire invece che è un figlio di bip è un'offesa belle buona che non c'entra niente e pertinenza sulla pertinenza dovevate battere un po' perché perché la pertinenza ha a che fare con la riservatezza e la riservatezza è un po' il punto il nervo scoperto di questa traccia perché è un po' l'elemento che sembra essere in parte sistematico rispetto alla traccia stessa e allora che vuol dire pertinenza vuol dire che tanto posso narrare una determinata vicenda tanto posso esercitare il mio diritto alle manifestazioni del pensiero su una vicenda in quanto esista un interesse a conoscere la stessa è come quando si dice che sul giornale è possibile raccontare di un caso di cronaca di una certa imputazione perché perché esiste un interesse pubblico a conoscere quella notizia se il racconto quante volte va in bagno quel politico o solo invaso la sua privacy o solo invaso la sua riservatezza quale dovevate tirar fuori senza aver dato un messaggio che abbia un senso per il pubblico quindi senza che esista alcun interesse pubblico alla conoscenza della notizia dovevate dire che chiaramente allora quando il proprio pensiero è la manifestazione del proprio pensiero si svolge nel rispetto di questi tre principi anche laddove quella manifestazione del proprio pensiero abbia leso l'altrui riservatezza e la rimettevate dentro e o l'altrui reputazione non è possibile che scattino reati quali la diffamazione quali ad esempio la diffamazione perché quelle condotte sono scriminate ai sensi dell'articolo 50 eccola qua perché l'ordinamento giuridico e in particolare la costituzione garantiscono la libertà di esercizio la libertà di manifestazione del proprio pensiero nel momento in cui l'ordinamento mi attribuisce un diritto non può poi sanzionarmi per il fatto che io sto utilizzando quel diritto articolo 51 e ovviamente non 50 esercizio del diritto e quindi se mi autorizzi a esercitare a manifestare il mio pensiero non puoi poi punirmi per il fatto che io ho esercitato quel pensiero eventualmente cagino ad un danno ad un altro soggetto purché io quel diritto l'abbia utilizzato nel limite del suo perimetro interno e quindi se io ho scritto che Anna è stata rinviata a giudizio per mafia e lei veramente è stata rinviata a giudizio per mafia è chiaro che venersi spiattellati sul giornale Anna Ercolano condannata per mafia o imputata per mafia lei è della sua reputazione ci mancherebbe altro però d'altro canto io esercito il mio diritto di cronaca in questo caso ho raccontato un fatto che si è verificato non posso essere rinviato a giudizio né condannato per diffamazione ovviamente qui cosa dovevate fare dato che avete appena presentato dato che avete appena presentato il la verità la continenza la pertinenza qui ovviamente dovevate chiarire che questi tre elementi si declinano diversamente rispetto alla critica e rispetto alla cronaca perché ricorderete nella mia lezione del 20 gennaio vi ho detto se parliamo di cronaca dobbiamo essere veritieri in quello che raccontiamo quasi oggettivi la cronaca è fredda non è commento la cronaca è narrazione allo stesso modo nell'esercizio del diritto di cronaca è importante tenere a freno la lingua essere continenti narrare dei fatti non dare grosse opinioni non c'è grosso spazio per l'allontanarsi dal fatto ok della crona pertinenza ovviamente si declina allo stesso modo deve esserci un interesse pubblico all'ascolto di quei fatti mentre invece potevate dire che rispetto alla critica soprattutto poi a quella politica si è un po' più laschi nella valutazione di questi tre principi verità deve essere vera la critica politica siamo nel mondo della soggettività non dell'oggettività quindi se io dico che un politico è incapace sto dicendo qualcosa di vero o no dipende dal punto di vista ovviamente quindi nella critica soprattutto in quella politica non è corretto parlare di verità effettivamente è più corretto parlare di veridicità cioè posso dire che il politico è incapace ma non gli posso attribuire delle condotte che non ha tenuto dei fatti falsi anche la continenza è un po' più largheggiante era bello dire queste cose che fate capire che capite la differenza della cronaca e critica continenza utilizzo delle espressioni beh nella cronaca io sto raccontando freddamente quello che è successo nella critica sono danno dei giudizi e quindi se dico che il politico è in etto sono ancora continente tutto sommato perché sto facendo delle valutazioni pertinenza più o meno la stessa cosa invece ora quello che dovevate dire che questi tre contemperamenti all'esercizio del diritto di critica del diritto di cronaca segnano il confine con il reato di diffamazione che è la norma posta a presidio della riservatezza della reputazione dei consociati segna il confine vuol dire che nell'ottica di bilanciamento tra diritti contrapposti l'ordinamento giudico ammette che la reputazione e la riservatezza di un soggetto possano essere danneggiate dall'esercizio del diritto di critica e di cronaca e quindi ammette che queste lesioni non sono fonte di reato non fanno scattare il reato di diffamazione il reato di diffamazione scatta quando ci sia stata lesione della riservatezza o della reputazione ma sulla base di un esercizio maldestro abusivo del diritto di critica o di cronaca quando esercitato il tuo diritto di critica o di cronaca violando uno o tutti questi tre parametri allora quella lesione della tua reputazione o riservatezza è diffamazione quando non l'hai violati quelle lesioni rimangono impunite perché se Fulvio è stato rinviato a giudizio per mafia e ad oggi non lo sa nessuno più o meno lo sanno in pochi e io lo spiattello sulla prima pagina di repubblica io ho distrutto la reputazione a Fulvio o no certo che sì ma non vado in carcere perché non vado in carcere perché ho raccontato un fatto vero lui veramente è stato rinviato lui veramente sarebbe stato rinviato a giudizio per mafia e quindi io ho distrutto il suo diritto alla reputazione sì ma potevo farlo perché l'ho fatto nell'esercizio del mio contro diritto di critica o di cronaca e la distruzione è ammissibile perché critica o cronaca io l'ho esercitata in maniera dirigente sono stato veritiero ho raccontato una verità se non era vero sicuramente era riformazione tutta la vita sono stato continente non ho raccontato non ho utilizzato espressioni maldestre per raccontare il fatto sono stato oggettivo freddo e sono stato pertinente perché ho raccontato un fatto interessante per il pubblico e qua chiaramente qualche parola sul reato di riformazione che non avete ancora avuto modo di descrivere a questo punto dovevate dire che negli ultimi anni però la dottrina e la giurisprudenza sono state costrette a calare a ribaltare tutte le acquisizioni tutte le coordinate ermeneutiche che avevano tracciato in tema di diffamazione e libera manifestazione del proprio pensiero rispetto alle nuove tecnologie e in particolare rispetto ai social network perché? perché l'avvento dei social network ha voluto dire l'avvento di formidabili strumenti che permettono al proprio pensiero e quindi alla manifestazione del proprio pensiero di rimbalzare con una forza e un'intensità che nessuno strumento pubblicitario aveva avuto fino a questo momento i social media sono delle formidabili casse di risonanze del proprio pensiero quindi da un lato rappresentano una grande espressione una grande manifestazione delle libertà di pensiero perché oggi veramente chiunque ha la possibilità di far sconoscere al mondo la propria idea su un determinato argomento allo stesso tempo però e non è un caso perché le cose sono collegate così come i social network hanno rappresentato dei formidabili strumenti di esercizio della propria libertà di pensiero hanno anche costituito dei formidabili strumenti per un esercizio abusivo della propria libertà di pensiero nel senso che da un lato hanno avuto questa capacità di permettere a ciascuno di esprimere il proprio pensiero e di farlo conoscere agli altri dall'altro lato hanno dato la possibilità a chiunque di diffamare altri soggetti quindi tanto esaltiamo la libertà di pensiero tanto dobbiamo preoccuparci dei rischi connessi ad un esercizio della stessa e ciò in base a due fenomeni avrei detto il fenomeno della cassa di risonanza dei social network e il fenomeno non l'avrei detto in questi termini ma lo dico per farmi capire da voi dei cosiddetti leonità tastiera nel senso che ormai abbiamo capito che è molto più facile insultare e distruggere l'altrui reputazione a distanza senza guardare quella persona negli occhi piuttosto che farlo in persona ora la domanda è come il nostro ordinamento e la nostra giurisprudenza si sono rapportate al fenomeno della diffamazione per mezzo social allora intanto io avrei detto ho fatto una riflessione interessante che non si fa quasi mai in questo tipo di compiti dal taglio evolutivo avrei detto che in realtà il nostro ordinamento non era completamente impreparato a combattere il fenomeno della diffamazione che si verifica attraverso strumenti particolarmente perniciosi strumenti che hanno un'ampia cassa di risonanza tant'è vero che il nostro ordinamento giuridico prevedeva fin dall'inizio fin dall'origine o quasi due forme di diffamazione aggravata la prima quella prevista dall'articolo 13 della legge 47 del 1948 la legge sulla stampa che prevedeva il reato di diffamazione a mezzo stampa attraverso l'attribuzione di un fatto determinato che vuol dire questo non lo dovevate spiegare nel compito ve lo spiego io ma che magari non vi sfugge questa cosa io posso diffamare una persona in due modi posso dire Fulvio è un maniaco sessuale Fulvio violenta alle donne in generale sei l'unico uomo della stanza quindi sono costretto a farlo su di te oppure posso dire Fulvio è violentato Lucy la seconda forma di diffamazione è molto più grave della prima perché perché è facile dire Fulvio è un maniaco sessuale Fulvio è uno stupratore Fulvio è un pedofilo Fulvio è un corrotto la gente che ascolta questa cosa può dire sì ma questa è la classica avanzata del cretino che non sa niente sparare in giro ma se io dico Fulvio ha violentato Lucy io sto indicando dei fatti concreti falsi ovviamente ma quando un fatto viene indicato come concreto come preciso è molto più veritiero all'orecchio di chi ascolta perché sentirsi dire che il sindaco è un corrotto quante volte lo sentirei dire non vuol dire niente se vi dicono sapete che il sindaco ha preso mazzette per far costruire quell'edificio voi abruzzate un attimo le orecchie quindi la diffamazione che si verifica attraverso l'imputazione l'attribuzione di un fatto determinato è più grave la diffamazione generica e allora l'articolo 13 della legge 47 del 48 sulla stampa prevedeva per l'appunto delle ipotesi aggravate di diffamazione quando la diffamazione avveniva a mezzo della stampa mediante attribuzione di un fatto specifico e poi vi era un'altra norma il terzo comma dell'articolo 595 che prevede forme di diffamazione aggravata nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa senza attribuzione di fatto specifico fa capire che è meno grave il 595 comma terzo dell'articolo 13 e per tutte le altre ipotesi di diffamazione che avvengono attraverso strumenti pubblicitari e potrei dire che di recente si era posta la questione di comprendere ritravate nell'ultima parte del commento se la diffamazione a mezzo social network dovesse essere considerata una diffamazione aggravata dal mezzo della stampa articolo 13 legge 47 del 48 una diffamazione aggravata essenza dell'articolo 595 comma terzo o una diffamazione semplice a seconda della scelta voi capite che il trattamento sanzionatorio era piuttosto diverso per anni dottrina e giurisprudenza hanno discusso della cosa e in particolare questione molto controversa era comprendere se i social network potessero essere considerati stampa e quindi se gli stessi potessero trovare applicazione nella legge 47 del 48 avrei detto subito sul punto che il fatto che i social network non siano stampati in senso tipografico non è una riflessione rilevante per escludere l'applicazione della legge della stampa gli stessi perché perché la giurisprudenza da anni aveva detto che la legge sulla stampa trova applicazione anche ai giornali online con ciò intendendosi sia i giornali solo online ci sono moltissimi quotidiani riviste solo online sia quelli che hanno doppio formato quindi voglia dire che anche il giornale online deve rispettare le regole della legge 47-48 sulla stampa e che quindi tramite il giornale online era possibile realizzare la diffamazione a mezzo stampa di quell'articolo 13 legge 47 del 48 ciò perché perché in buona sostanza è vero che la legge sulla stampa era del 48 e quindi il legislatore neanche immaginava che un giornale potesse essere online neanche si sapeva che voleva dire online nel 48 ma evidentemente se il giornale anziché avere una sua variante materiale cartacea si trova su uno schermo non cambia niente sempre il giornale è e quindi sempre le esigenze di trattarlo come stampa sono perché è stampa è stampa non stampata ma è stampa di cui il dubbio ma allora possiamo applicare la nozione di stampa anche ai social network o ai blog per esempio e quindi possiamo considerare una diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 13 legge 47 del 48 anche quella realizzata a mezzo social network la domanda è importante perché quella il trattamento sanzionatore è molto più aspira la giurisprudenza alla fine ha risposto a questa domanda l'ha fatto con Cassazione del 2017 ma sappiate che la concursione magistratura non è così importante a ricordare gli estremi di una sentenza grazie ma purtroppo mi fa male il naso che l'ho soffiato troppo e quando lo soffio lo soffio soffro se vi ricordate l'anno va bene altrimenti di recente la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che appunto non è così importante che cosa ha detto Cassazione 48 io ve lo dico perché ce l'ho scritto quindi è più facile Cassazione 48 73 del 2017 e ha divenuta a ritenere che i social network non possono essere considerati stampa ai sensi della legge sulla stampa e quindi agli stessi non è possibile applicare l'articolo 13 della legge 47 del 48 perché perché ha detto la Cassazione è vero che ai fini della nozione di stampa non rileva più l'elemento tipografico cioè il fatto che il giornale sia materialmente stampato ma ai fini della legge sulla stampa e ai fini dell'applicabilità della relativa normativa diventa fondamentale verificare la struttura di quel mezzo di diffusione del proprio pensiero e allora il giornale online ha esattamente la stessa forma del giornale cartaceo e quindi è chiaro che è giusto applicare anche a quel giornale online la stessa disciplina al suo editoriale c'ha i suoi articoli c'ha la sua struttura c'ha la sua quotidianità a contrario invece altri strumenti come i social network come i blog non hanno la stessa struttura della stampa e allora se non hanno buon pomeriggio Fabiano non avevo letto anche Maria e allora se non hanno la stessa struttura della stampa il blog è una raccolta voglio dire di articoli non è neanche una sua quotidianità io posso scrivere sul blog quando voglio chiedemi il social dove la bacheca di una persona non ha la struttura di un giornale alla stampa ai social non è possibile applicare le leggi sulla stampa e quindi non è possibile applicare l'aggravante della diffamazione a mezzo stampa di cui l'articolo 13 legge 47 48 avrei però detto che questo dibattito è un dibattito completamente che è stato completamente superato è importante dire questo anzi sembrava che avete smesso di studiare tre anni fa dalla sentenza 150 del 2021 della corte costituzionale che ha stabilito l'incostituzionalità dell'articolo 13 della legge 47 48 perché lo stesso non offre una alternativa tra l'incarcerazione e altre forme di sanzioni quali quelle pecuniare e quindi va a limitare va a comprimere in modo eccessivo quella che è la libertà di stampa e quindi voi capite che la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 13 della legge 47 del 48 ha eliminato il dubbio circa la possibilità che la diffamazione a mezzo social potesse essere diffamazione aggravata dal mezzo della stampa sicuramente non può esserlo più oggi la partita rimane aperta allora tra le altre due ipotesi è una diffamazione aggravata ai sensi del 595 terzo quindi come aggravata da un altro mezzo di pubblicità o una diffamazione semplice e qua potevate concludere tranquillamente chiarendo che sicuramente deve intendersi come forma di diffamazione aggravata perché perché i social network sono rappresentano una cassa di risonanza enorme del proprio pensiero e quindi anche dell'esercizio abusivo dello stesso per la potenziale enormità ed indeterminatezza del numero di persone che possono essere raggiunte dal mezzo in quanti bar della mia città mi devo recare e dire in alta voce che Fulvio è un pedofilo per raggiungere lo stesso livello di diffusione che se lo pubblico sulla mia bacheca facebook dovrei andare in tutti i bar di Napoli e forse pure di Roma a dire questa cosa neanche riuscirei a trovare abbastanza avventori quanti ce ne sono di quelli che leggono la mia bacheca e allora lo strumento è uno strumento così formidabile che sicuramente deve ritenersi integrato alla diffamazione di tipo aggravato basti pensare così potevate chiudere che addirittura la giurisprudenza ritiene e sussistere una diffamazione aggravata anche nel caso del blog e voi sapete che il social si differenzia dal blog per il fatto che il blog io me lo devo andare a cercare mi devo andare ad aprire l'articolo il social io magari non sto cercando nulla e leggo la notizia quindi è un modo di informazione anche involontario il social e così potevate concludere un compito che ecco poteva sembrare facile cioè si legge la traccia già beh le so queste cose bene o male le conosco ma è una traccia che contiene così tanti argomenti che mettere tutto assieme e tenere tutto assieme era di enorme difficoltà pubblichiamo adesso c'è qualche domanda sulla traccia di penale prima e poi se no pubblico faccio pubblicare effettivamente il civile allora non vedo domanda dall'aula non ci sono ok allora passiamo a pubblicare la traccia di diritto civile sia su Instagram che su Facebook allora ne do lettura premessi scenni sul riconoscimento del debito sulla promessa di pagamento e sulla confessione e sui relativi effetti processuali si soffermi il candidato sull'ipotesi di simulazione di tali atti e sulla possibilità di una confessione consapevolmente non veritiera ripeto premessi scendi sul riconoscimento del debito promessa di pagamento e confessione e sui relativi effetti processuali si soffermi il candidato sull'ipotesi di simulazione di tali atti e sulla possibilità di una confessione consapevolmente non veritiera traccia questa sicuramente anche a prima vista un po' più complessa un po' più complessa anche perché come vedremo almeno nell'ultima parte richiede un approccio giurisprudenziale un po' più forte l'anno scorso quest'anno non c'eravamo ancora arrivati avevamo trattato si vede bene la traccia su tutti i social di questi istituti avevamo parlato della ricognizione del debito e della promessa di pagamento sicuramente anche da aggiornamenti giurisprudenziali avevamo parlato di confessione che un altro istituto abbastanza classico del diritto civile anche se normalmente la si studia insieme alla quetanza proprio per tracciarne la differenza rispetto a ricognizione del debito e promessa di pagamento diciamo che la parte problematica era quella che vi richiedeva poi di comprendere non tanto gli effetti processuali quanto piuttosto il problema della simulazione di questi istituti era una traccia anche questa difficile da scrivere questa anche un po' più difficile da risolvere ma anche difficile da scrivere perché anche questa traccia come l'altra traccia quella di penale vi chiedeva di tenere per tutto il compito tre piedi in una scarpa perché vi chiedeva di gestire tre istituti il riconoscimento del debito la promessa di pagamento e la confessione quindi tenere tre istituti in mano sia nella fase descrittiva che rispetto alla disciplina i famosi aspetti processuali che è il problema della simulazione per poi declinare il tutto con l'ipotesi della confessione colpevolmente non veritiera dunque come si organizzava questo compito allora come si proporzionava questo compito diciamo che l'ultima parte del compito non è che fosse staccata dalle altre perché la simulazione di tali atti non è una cosa diversa dalla confessione consapevolmente non veritiera la confessione falsa altro non è se non una confessione simulata quindi sostanzialmente la seconda parte del compito è tratti il candidato della ricondizione del debito della promessa di pagamento e della confessione simulata con particolare attenzione a quest'ultima perché come vedrete quella più complessa quindi avevate i primi la prima metà di compito che inverteva su il riconoscimento del debito sulla promessa di pagamento sulla confessione e sugli effetti processuali quindi la disciplina di questi tre istituti la seconda parte del compito che si interrogava sul problema della natura eventualmente simulata di questi istituti e allora cerchiamo di elaborare anche qua una scaletta di risoluzione qui devo dire che l'elemento di difficoltà era ancora maggiore perché nel precedente compito vi chiedevano di partire da cronaca e critica già sono due istituti già è tanto qua vi chiedeva di partire addirittura da tre istituti ricondizione del debito promessa di pagamento e confessione ora elementarmente si poteva partire dall'uno e passare al secondo e al terzo ma forse vi devo dire che più elegante era cercare un inizio che cercasse di tenere insieme questi istituti perché è chiaro che se vengono tutti e tre piazzati in una traccia qualcosa in comune ce l'hanno e qual è la comunanza di questi istituti se vogliamo che sono tutti e tre dei negozi processuali perché sono dei negozi giuridici che incidono su un processo in assenza di processo sono completamente irrilevanti e che possiamo dire incidono sulla ripartizione dell'onere probatorio spostano parzialmente o definitivamente l'onere probatorio in capo ad una parte quindi forse si poteva partire dall'onere della prova nel processo civile dal principio dispositivo 2967 del codice civile e capire che data la difficoltà spesso e volentieri di assolvere quest'onere per l'attore perché non è facile dare in giudizio la prova dei fatti che costituiscono il fondamento di un proprio diritto il legislatore ha elaborato una serie di strumenti che le parti possono utilizzare per assolvere o per rendere meno arduo l'onere della prova in capo all'attore questa poteva essere una partenza e tra questi istituti tra questi negozi processuali perché incidono su un momento processuale quale è il riparto dell'onere robatorio sicuramente avreste potuto dire che spiccano che sono i più centrali più importanti proprio la ricognizione del debito la promessa di pagamento e la confessione e avrei chiarito ovviamente che il legislatore dedica ai primi due il solo articolo 1988 del codice civile e all'altro gli articoli che vanno dal 2730 al 2735 del codice civile avrei detto che si tratta di tre negozi giuridici processuali appunto cioè che sono destinati a produrre degli effetti giuridici direttamente nell'ambito del processo civile a questo punto sarei partito perché abbiamo dato una visione di insieme abbiamo capito che questi tre istituti in apparenza così diversi hanno un nocciolo duro hanno un elemento comune perché che cosa sono? Sono tutti negozi ad effetti processuali che hanno l'obiettivo di rendere meno arduo meno severo meno difficile da adempiere l'onere della prova a questo punto sarei partito come traccia vuole dalla ricondizione di debito della promessa di pagamento attenzione questi due istituti li avrei spiegati insieme perché perché sono contenuti nello stesso articolo e perché sono tendenzialmente cose estremamente simili infatti avrei spiegato cosa sono e avrei chiarito perché vengono accostati poi lo vedremo insieme nel corso del corso come dico sempre sostanzialmente perché se io riconosco di essere il tuo debitore io sto promettendo che pagherò se io sto promettendo che ti pagherò sto riconoscendo di essere il tuo debitore quindi sono sostanzialmente un po' la stessa cosa avrei chiarito bene che cosa sono e avrei spiegato che effetto processuale essi producono avrei chiarito che si determinano un'inversione dell'onere probatorio che operenze ed è processuale cioè avrei chiarito che la produzione in giudizio questo è un compito che ha molti momenti processual civilistici e se avete un po' di conoscenza processual civilistica sfruttatela in un compito del genere perché magari vi trovate conto di competito che in civili sono forti quanto voi o addirittura di più ma magari in procedura sono traballanti e allora lì è il momento di far vedere di saperne anche perché in commissione di operatori del diritto ce ne sono magistrati eccetera eccetera dicevo capire che essa determina in giudizio l'inversione dell'onere probatorio cioè la parte che in giudizio produce e intende avvalersi della ricondizione di debito o della promessa di pagamento resa dalla controparte non è tenuta a provare in giudizio l'esistenza del rapporto giuridico accertato negli stessi e quindi se nella ricondizione c'è scritto che tu mi devi 5.000 euro io ti faccio causa e non devo dimostrare che tu mi devi 5.000 euro mi basta produrre in giudizio il documento in cui tu affermi di essere il mio debitore di 5.000 euro ovviamente bisogna spiegare che questi che appunto questi istituti non costituiscono una prova legale cioè il debitore non è che non abbia nessuna possibilità di difendersi il debitore infatti può essere ammesso alla prova contraria cioè può essere lui a venire in giudizio e a dimostrare che benché effettivamente egli abbia rilasciato quella promessa di pagamento o quella ricondizione di debito in realtà il debito non esiste o è stato già adempiuto che voi capite se il debito non esiste devi spiegare quanto meno perché hai rilasciato quella coetanza se il debito se il debito già impiuto è molto più facile è vero avevo detto che ero debitore di 4.000 ma poi ho pagato i 4.000 quindi avrei chiarito che l'istituto non vale come prova legale dell'esistenza del rapporto credito debito ma determina solo un'inversione dell'onere probatorio non è più l'attore a dover provare di essere creditore ma sarà il debitore a dover provare di non essere debitore quindi inversione dell'onere della prova che produce effetti solo di tipo processuale è sempre necessaria l'esistenza di un rapporto debito credito sottostante ma non è il creditore a doverlo provare è il debitore a dover provare che esso non esiste quindi una presunzione che può essere sempre vinta dalla prova contraria una presunzione iuristantum tantum ora come si iniziava a parlare della confessione dicendo che un istituto piuttosto simile piuttosto similare almeno prima fasce rispetto alla ricognizione del debito alla promessa di pagamento è l'istituto della confessione ciò in quanto anche i due istituti disciplinati dal 1988 hanno un carattere lato senso confessorio perché dico lato senso confessorio perché effettivamente il dichiarante sta riconoscendo di essere debitore o sta promettendo di pagare quindi sto riconoscendo un fatto sfavorevole alla mia persona in buona sostanza a questo punto spiegavate cos'era la confessione che arrivate che la dichiarazione che ad oggetto fatti contrari ai propri interessi tracciavate una differenza tra quella giudiziale e quella stragiudiziale evidenziando però che hanno identico valore e magari non dicevate niente sulla rivocabilità della confessione perché vi torna dopo utile questo elemento vi soffermavate ora sugli effetti processuali della confessione e qui notavate individuate la profonda differenza che c'è tra la ricondizione del debito la promessa di pagamento e la confessione perché vi rendete conto che la confessione non determina un'inversione dell'onere della prova sfavorevole al confessante il confessante non può venire in giudizio e dimostrare che la sua confessione non è valida perché la confessione vale come prova legale le prove legali sono quelle prove che non ammettono una prova contraria ai sensi dell'articolo 2728 quindi colui che confessa non può venire a rendere in giudizio una prova con la quale dimostri la falsità di quella confessione perché a fronte di una confessione non è ammissibile una prova contraria perché trattasi di una prova legale ora ti rispondo Michele tra un minuto e magari a questo punto potevate anche addirittura valorizzare la differenza con la quietanza a questo punto cosa avrei detto io che per iniziare a parlare del problema della simulazione avrei detto che dato dati importanti intensi effetti processuali che sono prodotti da questi tre istituti la riconizione di debito la promessa di pagamento e la confessione diventa fondamentale comprendere come reagisce l'ordinamento giuridico ad ipotesi cui stessi vengano simulati e cioè vengano resi da un soggetto che renda però dichiarazioni non veritiere del soggetto che dimostri di essere debitore che riconosca di essere debitore di un debito che non esiste che promette il pagamento di un debito che non esiste oppure che confessa un fatto che non è vero perché lo ripeto perché proprio perché produco un effetto processuale così importante addirittura la confessione è prova legale diventa fondamentale comprendere se l'ordinamento ha prontato un sistema di reazioni dell'ipotesi di ricognizioni promesse o confessioni non veritiere simulati si partiva dalla ricognizione del debito e dalla promessa di pagamento chiarendo che la ricognizione o la promessa determinano solo un'inversione di tipo processuale dell'onore probatorio di tipo solo processuale che vuol dire che il promittente o il dichiarante dovrebbero avere sempre comunque la possibilità di venire in giudizio e di dimostrare la natura simulata di quella ricognizione o di quella promessa attenti cosa cosa diversa rispetto a provare per esempio che il debito è stato debito che io potrei fare come ti chiami potrei fare una promessa di pagamento a Maria di 4.000 euro va bene poi io le pago i 4.000 euro Maria non è una persona particolarmente etica mi permetto per esempio mi fa causa e mi chiede 4.000 euro e produce in giudizio il documento io in quel caso posso vincere no l'inversione dell'onore si deve dire ma l'inversione dell'onore è la prova sono io che devo provare che non sono debitore vengo in giudizio mi costituisco e do la prova del fatto che io non sono un tuo debitore di 4.000 euro ma questo ho fatto esempio sbagliato sì perché tu riconosci di essere mia debitrice io ti faccio causa io sono poco etico e tu mi dimostri che hai già pagato ok non è questo il caso che vi ho prospettato però perché in questo caso la di il riconoscimento di debito era un riconoscimento di debito che all'epoca dei fatti era un riconoscimento corretto perché io riconoscevo di essere debitore di 4.000 euro verso Maria e davvero io ero suo debitore poi ho pagato ma al momento della ricognizione i fatti erano quelli quando invece si parla di ricognizione o di promessa simulata si parla dell'ipotesi io sto riconoscendo di essere debitore di 4.000 di Maria ma non è vero che io ad oggi devo 4.000 a Maria quindi c'è qualcosa di simulato nella dichiarazione stessa e allora in questo caso ci si chiede se il soggetto può essere ammesso a prova contraria la risposta è positiva tendenzialmente nel senso che tendenzialmente si permette al dichiarante o al promittente di dimostrare in giudizio la natura simulata di quella dichiarazione quindi provare in giudizio che nonostante la dichiarazione fatta io non sono debitore di Maria non ero debitore di Maria al momento della dichiarazione poi mi sarei chiesto se questa costruzione giurisprudenziale e dottrinale valga anche per la confessione o meno e avrei chiarito che sicuramente la confessione può essere revocata ma che la revoca è possibile solo per errore o per violenza dunque parliamo di una confessione che è stata resa in virtù di un errore o addirittura che è stata presa o la forza o la violenza in questo caso pure abbiamo a che fare con una confessione simulata ovviamente quella confessione simulata può essere superata può essere vinta dalla dimostrazione che sia stata resa per errore o per violenza capite perché è simulata perché io quando ho confessato quei fatti non erano veri e quindi io posso venire in giudizio io che ho confessato posso venire in giudizio e dimostrarti che l'oggetto della mia confessione è falso perché sono caduto in errore e ho subito violenza più complessa è invece la questione della traccia perché la traccia parla di confessione che ad oggetto una confessione consapevolmente non veritiera consapevolmente che vuol dire che io sapevo che stavo confessando il falso e volevo confessare il falso successivamente per qualche motivo mi rendo conto di non volerlo più fare in questo caso è possibile vincere la prova legale della confessione la giurisprudenza dice di no perché perché la confessione lo ripeto è prova legale può essere vinta solo attraverso l'istituto della revoca della confessione che però si verifica quando la confessione non è stata consapevole ma è stata resa per errore o per violenza così è ripartita la disciplina di promesse di pagamento di condizioni di debito e confessione a uno verrebbe da pensare che poteva chiudere il compito e invece no perché vi hanno assegnato vi hanno dato un ulteriore elemento di difficoltà che richiedeva purtroppo una preparazione di tipo giurisprudenziale vedete nel corso dell'esposizione di questa scaletta io non vi ho tracciato la differenza tra promesse e ricognizioni titolate e promesse e ricognizioni pure e l'ho fatto perché entrano in quest'ultima parte di compito qual è la differenza la ricognizione di debito o la promessa di pagamento pura è quella in cui il soggetto debitore si limita a riconoscere di essere debitore di una certa cifra in favore di una persona oppure promette di pagare una certa cifra a una determinata persona senza individuare il motivo di questa sua debitoria le promesse di pagamento o le ricognizioni di debito titolate invece sono quelle nelle quali viene esplicitato anche il rapporto sottostante e quindi io scrivo non solo cioè Maria non solo dichiara di essere mia debitrice di 4.000 ma dichiara di essere mia debitrice di 4.000 in virtù di un determinato contratto che abbiamo concluso e che lei non ancora ha debito ora questa distinzione potrebbe avere anche solo una valenza descrittiva in realtà secondo alcuni non l'ha perché secondo alcuni sotto il profilo probatorio e quindi rispetto alla possibilità di rendere una prova contraria rispetto alla ricognizione e alla promessa la differenza è molto rilevante perché perché per le ricognizioni pure dovrebbero valere effettivamente i limiti del 1988 quindi io rendo una dichiarazione una ricognizione pura tipo sono debitori di 10.000 nei confronti di Fulvio senza dire neanche per quale motivo in questo caso Fulvio mi fa causa produce la ricognizione di debito io dovrei poter essere ammesso alla prova contraria dimostro che cosa l'insussistenza di questo debito o dimostro che il debito è stato adempiuto oppure dimostro proprio che la mia dichiarazione era simulata sono cose diverse perché se io dico che sono solo debitori di 10 e lo sono e poi pago quella non è una dichiarazione simulata una dichiarazione vera ma superata dei fatti se invece io non sono solo debitori di 10 ma dichiaro di esserlo oggi quella è una dichiarazione è una ricognizione simulata che può essere vinta dalla prova contraria posso dire un giudizio e posso dire che non è vero secondo alcuni ciò però vale solo per le promesse pure per le promesse invece titolate o per le ricognizioni titolate varrebbero regole diverse e in particolare quelle della confessione quindi secondo una certa ricostruzione dottrinale se io rendo una dichiarazione titolata nei confronti di fulvio e quindi io riconosco di essere solo debitori di 10.000 euro perché mi ha venduto una macchina e io ancora devo saldare l'ultima parte del prezzo allora in quel caso secondo parte della dottrina quella sarebbe una dichiarazione che a natura confessoria e allora o provo di avere estinto il debito e allora in quel caso non sto dando la prova della natura simulata della confessione provo che la mia confessione era corretta ma è stata superata dai fatti mentre invece secondo questa impostazione non sarebbe possibile fornire la prova contraria perché quella ricognizione titolata varrebbe come prova legale dell'esistenza dell'esistenza del debito quindi non posso venire a dimostrare che invece ho fatto una dichiarazione o ho reso una dichiarazione mendacea ho reso una confessione mendacea ok non sarebbe possibile devo devo dirvi che cassazione 2018 sposa questa tesi sposa questa impostazione secondo cui ricognizione promesse titolate sarebbero soggette alle regole in tema di confessione allora io ho finito anche con civile ora spazio per le domande ne è arrivata una da casa quindi rispondo subito si le leggo è possibile iniziare la traccia di civile evidenziando che la promessa di pagamento e la condizione di debito sono negozi giudici unilaterali mentre la confessione giudice è una dichiarazione di scienza di conseguenza gli effetti delle simulazioni si rivelebbero solo confrattere secondo me cioè non è sbagliato quello che dici Michele è tutto corretto però rischi di non centrare il compito perché ti dico questo perché se questo è molto importante mi fa capire anche la psicologia della traccia di chi l'ha scritta e quindi cosa si aspettano di ricevere se tu in un compito che ti mette davanti in prima battuta tre istituti che hanno qualche similitudine ma anche molte differenze se tu inizi il compito sottolineando le differenze è come se non avessi colto il filo conduttore della traccia tu invece al contrario devi proprio evidenziare fin dalle prime battute che esiste è un qualcosa che collega tutti gli istituti per far capire che pur essendo diversi hanno un filo comune quindi non è sbagliato quello che tu dici però è un po' al di fuori dello spirito della traccia secondo me va bene dato spazio ancora per le domande allora non vi do altre domande sì ah prego articolo c'è molto non ho letto già quello che riguarda la vecchia traccia va bene così allora ci salutiamo e ci vediamo poi in settimana per gli appuntamenti pubblici della scuola arrivederci buona giornata e ci vediamo in settimana